13 Questo sito che vediamo adesso è Stellarium Perché se lo usiamo in realtà soltanto per renderci conto che sopra di noi abbiamo delle stelle e la Via Lattia dei pianeti e dei satelliti Anche se l'inquinamento luminoso, le luci e magari dei oggetti, tipo questi, ci impediscono di vedere Però in realtà avremo un cielo meraviglioso sopra E su questo cielo meraviglioso inizierei il mio discorso Vorrei fare intanto due introduzioni La prima è parlare un attimo di questo cielo, cioè cosa ci ispira A me ispira un sacco di domande, sono curioso, sono desideroso di sapere Tra l'altro la parola desiderare deriva da desiderus Cioè, Sirius sono le stelle ma con le negazioni avanti Quindi desiderio è l'assenza di stelle, è quel sentimento che si prova quando c'è la mancanza di stelle Perché senti che c'è qualcosa che manca Che effettivamente un cielo senza stelle è abbastanza brutto monotro Mentre qui invece possiamo vedere un sacco di stelle, palli luminosi, oggetti che si muovono strano E se noi andiamo a vedere di serie in serie a questi si muovono ed è abbastanza strano E ci viene dove andarci, ma come si muovono, ma perché alcuni oggetti si muovono in modo diverso Cos'è questa macchia più chiara, cos'è quella palla gigante, l'altra che magari ha delle fasi in cielo Quindi la prima storia breve è questa Supponiamo di essere onniscienti La prima storia è raccontare in modo cronologico la storia dell'universo Con tutti i suoi tredici e abbondanti miliardi di anni di storia È una storia molto lunga Ma, intanto, ha un inizio Non è sempre detto che le storie abbiano iniziato, alcune storie sono cicliche Si è ipotizzato per un certo tempo che l'universo, o magari è alla terra, alla vita Avessero una storia ciclica Invece siamo arrivati a scoprire che c'era un tempo più uguale a zero Ebbene sì E questo ci è arrivato da tante tante prove sperimentali Diciamo che una di queste è il fatto che le galassie Che per adesso non sappiamo ancora cosa sono nel nostro discorso Si stanno allontanando E voi dite, ma come? Tutte le galassie si allontanano da noi? Sì Ma non solo Le galassie si allontanano tra loro stesse Cioè tutto si sta espandendo Questa è una roba un po' strana Soprattutto perché se si allontanano Allora prima erano più vicine E molto prima erano molto più vicine Quindi se noi riavvolgessimo il tempo Tornando indietro Vedremmo come Tutte le galassie Quindi la parte della massa Visibile e anche non visibile Che si apportano dietro Si avvicina Si avvicina A un certo punto Che è stato calcolato Su diverse basi Con diversi metodi In diverse epoche E tutte ci lo confermano Su questi 13-14 miliardi di anni C'è stato un momento in cui Tutto Era concentrato in una cosa Puntiforme In un bel puntino minuscolo Ma con tutto intendo tutto Lo spazio, il tempo, la materia e l'energia Quindi questo Big Bang Che sembra un po' un'esplosione Ma in realtà Esplosione non è Ecco Qua ve lo fanno vedere in modo artistico Come l'esplosione Sono tutte immagini fatte a computer Ecco Questa è interessante È stato un momento in cui Il tempo comincia ad attichettare A scorrere Lo spazio e il tempo Si sono allargati Si sono espansi Dove E niente Si sono semplicemente dilatati Quindi Tecnicamente Se fosse un'esplosione Noi potremmo calcolare La temperatura Quindi a livello teorico Sì C'è una temperatura Di milioni Di triliardi di gradi Una roba stupidamente grande Ma la cosa Che noi interessa È che questa Che chiamiamo l'esplosione Ha generato Tutto quello che vediamo E che non vediamo Perché alcune cose C'erano E non ci sono più In particolare Ha generato Sia la materia Che l'antimateria Che per adesso Noi non Andiamo A spiegare Ma L'unica cosa Che ci interessa sapere È che questi due tipi Di oggetti Quando si toccano Fisi Sparire Eh Già Scusate Fisicamente Spariscono Si trasformano In radiazione Quindi Niente di tangibile Allora Se l'universo Avesse creato In modo Uniforme Materia Antimateria Queste Avrebbero Colliso Anche solo Per la trazione Rotazionale Avrebbero fatto Questo processo Di annichilazione E sarebbero Diventate Luce Quindi l'universo Sarebbe Radiazione pura Luce Su ogni lunghezza D'onda Invece È stato calcolato Che L'annichilazione È successa Ma c'era Una sovrabbondanza In più di materia E intanto Di che materia Stiamo parlando Perché Non immaginatevi Che ci fosse Ferro Legno Ceramica Plastica Non c'erano Atomi A quelle temperature L'energia Diciamo Vibrazionale Di queste molecole Sarebbe stata Totalmente alta Da smembrarle Quindi non potevano Proprio esistere Fisicamente Non potevano Neanche esistere Gli atomi Perché era Troppo caldo Esisteva Soltanto I costituenti Dei costituenti Degli atomi Cioè Le cose che sono Dentro il nucleo Dentro i protoni Dentro i neutroni Ossia I quark Dalla Anichilazione Sopravvisse Soltanto Un quark Di materia Su 3 per 17 Quark Di antimateria Cioè Una roba Gigante Una devastazione Che se fosse Sata Delle forme di vita Sarebbe stata Un'apocalisse Più o meno E Questa Stiamo parlando Nei primi Istanti Dopo il tempo Ma Quando È in un tempo Stimato tra 10 alla meno 37 secondi 10 alla meno 6 Perché 10 alla meno 37 comincia La fase di inflazione 10 alla meno 36 Invece Sappiamo che I quark Sovravvissuti Si sono raffreddati Abbastanza Per unirsi E formare Protoni E neutroni In particolare Immaginiamo Che Se noi chiamiamo Più Meno 1 La carica Dell'elettrone Allora Vediamo come La carica elettrica Dei quark Sia Per il quark Up 2 terzi Per il quark Down Meno 1 terzo Gli altri Tipi di quark Adesso non ci interessano Come possiamo vedere Il modello standard Formato da 16 particelle Fondamentali Allora non ci interessano Up and down Tutte le altre Ho occitato La radiazione Quindi i fotoni E tra poco Occiterò gli elettroni Le altre Diciamo che Non le vedremo Mai Nella nostra vita Non compongono La materia Barionica Ordinaria Ok Quindi Si sono Accoppiati Appena L'energia Si è abbassata A triplette In particolare Dato che Abbiamo Stato due tipi Di quark Le combinazioni Sono poche La prima È up Up and down La seconda È down Down up Poi l'altro Notate Facciamo un breve Calcolino La prima combinazione Quanto è la carica? 2 terzi Più 2 terzi Meno 1 terzo Meno 1 terzo Cioè 3 terzi Cioè Più 1 Ossia È la particella Che noi oggi Chiamiamo Protone L'altra combinazione Down Down Up Meno 1 terzo Meno 1 terzo Più 2 terzi Otteniamo una carica Di 0 2 terzi Meno 2 terzi Ed è la particella Che oggi Chiamiamo Come Neutrone Quindi In questo Sconto Di materia Di materie Di Big Bang Che è una esposizione pazzesca Si forma energia Questa qua Annichilisce Una parte sopravvive Una parte piccolissima Ma Questa parte piccolissima È tutta la materia Che vediamo Nell'universo E pian piano Comincia Ad aggregarsi Com'è che inizia A aggregarsi? Perché Se noi immaginiamo Che il Big Bang Ha prodotto Un mare di Quark Teoricamente Un mare uniforme Dalla forza di cavità Avrebbe dovuto Creare Una grandissima palla Perché Tutti O anzi Non avrebbe dovuto Creare niente Perché sia uniforme Ogni attrazione Gravitazionale È bilanciata Dal fatto che Ogni particella Ne ha una In un'altra direzione Che la tira E la E la somma Totale delle forze Fa zero Quindi Cos'è successo? Al di là Di questa Annichilazione Gli atomi E I Quark Che hanno Creato Questi protoni Neutroni Più Sono raffredati E Più hanno Cominciato A interagire In particolare I protoni Di carica Più uno Hanno interagito Per carica Eletrostatica Con Gli elettroni Di carica Meno uno Hanno fatto una sorta Di sistema planetario Se qualcuno Si Si sta Revoltando Nella tomba Però Questo sistema planetario Di un protone Un elettroni Che vive intorno Lo chiamiamo Atomo Di Idrogeno Ed è l'unimento Più abbondante Dell'universo Esiste anche Un altro Atomo Che si è formato Lì Esistono tanti Ma L'atomo Secondario Il 5% Della materia Dell'universo È l'elio Che ha due protoni E due elettroni Perché ho detto Che ce ne sono tanti Ecco perché Dato che Questi neutroni Non hanno carica elettrica Io posso Benissimo Aggiungerli Nei nuclei E non cambia La configurazione elettrica L'atomo di idrogeno Rimane Atomo di idrogeno Quindi io posso Prendere un protone Posso aggiungersi Un neutrone E sempre Idrogeno è Idrogeno A cui massa Al centro È raddoppiata Perché Protone e neutrone Hanno Grosso modo La stessa massa Il neutrone Invece L'elettrone Invece ha una massa Di tipo 1836 volte Minore Quindi Possiamo un po' Prascurare tutto Sì Vedete Qua è espressa In mega elettronvolte Su c quadro E si sta sfruttando Il fatto che È uguale M c quadro Quindi la massa È energia Su c al quadrato Questo atomo Di protone Di protone E neutrone Dato che La massa È un doppio Lo possiamo chiamare Deuterio Ma non solo Io posso buttarci Un altro Neutrone Cioè averne due Più un protone Cioè tre E ha tre Particelle Tre Nucleoni Nel nucleo D'idrogeno Allora questo Idrogeno Con massa Tripla Lo posso chiamare Trizio E avete capito Così Questi qua Sono gli isotobi Quindi ovviamente Stiamo sempre parlando Di idrogeno Ma Ha nomi diversi Perché ci piace Essere stronzi Tendenzialmente Con gli atomi Si indica Così tipo Ilio 4 Ilio 3 Ilio 5 Carbonio 12 Carbonio 13 Uranio 258 200 238 235 239 Protoneo 239 240 Va bene Dopo Un minuto La temperatura Comunque Era di un miliardo Di gradi Un miliardo Di gradi Significa Che io non vi dico La scala Perché tanto Se sia Kelvin Celsius O Fahrenheit Stiamo parlando Di un miliardo Cioè Celsius E Fahrenheit Sono la stessa scala Che traslano di 273 Virgola 14 Gradi Ma Qua siamo A livelli Assurdi In questo Marasma Rimane sempre La domanda Ma Perché Non si è formata Una grande palla Di materia Per attenzione Grazionale Oppure Perché l'universo Non è rimasto Statico Questa domanda qua Se la fece Una persona Di nome Hawking Stephen Stephen Hawking Ebbe Un ragionamento Se noi Da un universo Uniforme Togliamo In punti Un po' Arbitrari Un po' Un po' A cacchio Della materia Allora Vediamo Che non è vero Che tutti gli atomi Hanno Una particella Diciamo Di confine Che le attrae Gravitazionalmente Se gli tolgo Un vicino Manga questa forza Edrazione E quindi L'atomo viene spinto Da parte opposta Ma dato che lo faccio In diversi punti Si creeranno Diversi Diversi Diciamo Palle D'idrogeno Adesso Per evitare Di ripetere La prova Palle D'idrogeno Vi dico già Che si chiameranno Stelle E Quindi Abbiamo visto La nascita Delle stelle Nel corso Dei Milioni Di anni Queste Nebulose Queste Nuvole D'idrogeno E un po' Di elio Hanno cominciato A schiacciarsi Per attrazione Gravitazionale E hanno formato Le prime stelle Cosa è una stella? Una stella È una nuvola Di idrogeno Che si è schiacciata Per attrazione Gravitazionale E pian piano Facciamo così Ok E pian piano Ha fatto sì Che gli atomi Di idrogeno All'interno Della parte Più Centrale Si urtassero A causa Della pressione Ovviamente Aumentando La temperatura E quando La temperatura Ha raggiunto Svariati Milioni Di gradi Kelvin Di gradi In generale Allora Si è innescato Un fenomeno Particolare Cioè Un fenomeno Di fusione Due Particelle Di idrogeno O Qualche loro Parentese Sempre idrogeno E magari Deotirio Magari Trizio Si sono Scontrate Con una Energia Si è una Forza Talmente Tali Che non Si sono Più Allontanate Hanno Formato Un atomo Di Elio Perché Un portone Qui Un portone Là Li metti Insieme E fai L'elio E Per i più Esperti Possiamo Avere Un processo Del tipo Deotirio Trizio Che danno Origine All'elio 4 E un Neutrone Il nucleo 4 Si è Chiamato Particella Alpha Oppure Due Atomi Di Trizio Che reagiscono E fanno L'elio 4 E due Neutroni La cosa Che ci interessa È che La materia Che viene creata Cioè L'elio Non ha Massa Uguale Alla somma Delle masse Delle due Particelle La cosa La domanda Che ci viene È Dov'è finita Questa Materia E qua Di nuovo Possiamo Sfruttare La famosissima Incompleta Formula Di Einstein E uguale MC4 Quindi Quello che È successo Che una parte Della materia È scomparsa Ed è stata Trasformata In energia Pura Questo è Pazzesco Perché Il rendimento Di questa macchina Termica È altissimo La quantità Di energia Liberata È Mostruosa Pensate che Per ogni grammo Di materia Se non sbaglio Vengono prodotti Tipo 90.000 Migliardi Di Joule Di lavoro Che è una roba Grande 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 Che Se fosse possibile Ripetere In modo controllato Sulla terra Avrebbe Di sicuro Risolto La crisi Energetica E la dipendenza Dai fonti Possili Ok Adesso Questa È una stella Sono Fornaci Di elementi Perché Prendono L'idrogeno Lo bruciano Come abbiamo visto E producono Meglio E questo qua Lo fanno Per un po' Di tempo Fino a quanto Quando è che Smettono In particolare Smettono Quando non c'è più Comburente Cioè quando L'idrogeno Finisce E qua Sono diversi Destini Per esempio Una stella Che ha Tanta massa Una stella Bella cicciotta Quando smette Di produrre Elio Perché ha Finito L'idrogeno Ovviamente Le reazioni Nucleari Smettono Ma le reazioni Nucleari Che sono Dei bombardamenti All'interno Del nucleo Delle Bombe atomiche A fusione Le cose più potenti Mai liberate Sulla terra Smettono E smettono Quindi di Gonfiare Con Con la loro forza La stella Che quindi È sottoposta Soltanto Alla sua Stessa Attrazione Gravitazionale E quindi Collassa Su se stessa Pian piano La stella Si restringe Ma Restringendosi Fa una cosa Cioè Fa urtare Più velocemente Le particelle Nel nucleo Il che Abbiamo già visto Porta un aumento Di temperatura E se la stella È bella cicciotta Allora Può avvenire Che L'elio Comincia A bruciare Allo stesso modo In cui bruciamo L'idrogeno Cioè con Fusioni Nucleari Con reazioni Nucleari E produce Il carbonio E voi Dite no Aspetta L'idrogeno È il numero Uno A tavola periodica L'elio È il numero Due Dovremmo produrre Il numero Tre Eh no Perché Si mettono insieme Tre atomi Di Ilio Per formarne Uno Di carbonio Che è il numero Sei E E ma Allora Gli atomi Tre Quattro Cinque Cioè Il litio Il berile Il boro Come Come producono Quello C'è un C'è un ciclo Di produzione Che in realtà Ve la faccio breve Gli atomi Possono anche decadere Alcuni atomi A seconda Del numero Di neutroni Che hanno Sono più o meno Stabili La stabilità È data Dal fatto Che Dal fatto Che i protoni Nel nucleo Si respingono Hanno la stessa carica Tutte cose Con la stessa carica Si respingono Quindi immaginatevi Un atomo Grande Un atomo Con 92 Protoni O sono tanti Cioè Sono proprio tanti E la repulsione Tra di loro È forte Comincia a sentirsi Tanto Quindi Lo scopo Dei neutroni Che non hanno Carica elettrica Cioè hanno Carica elettrica Zero È quello Di allontanare I protoni Di fare un po' Da gelatina E Diluire Questa repulsione Quindi Fate conto che Un atomo Con 92 Protoni Tendenzialmente Ha un sacco Ma un sacco Di neutroni Non ne ha 92 Ma ne ha un numero tale Da arrivare Tra protoni E nucleori Sui 238 O 239 E allora lì È di sicuro Stabile Se io Gli ne tolgo Anche soltanto 3 O 4 E arrivo A questo atomo Con 92 Protoni Ma Soltanto In totale 235 Nucleoni Si chiamano Questo È instabile Perché Gli ne ho tolti 3 4 E quindi La repulsione Tra i protoni È talmente forte Che vuole Far sì Che l'atomo Si spacchi E si divida Detto questo Quindi I numeri 2 3 4 Nella tavola periodica Si formano Anche grazie A decadimenti Oppure Al fatto che magari Un helio Regisce con Un idrogeno Non chimicamente Ovviamente Siamo sempre Pando in relazioni nucleari Ma Domanda Cosa succede Quando La stella Finisce di Bruciare L'elio Dipende Se la stella È molto Grossa Allora Abbiamo capito Le reazioni nucleari Smettono La stella Collassa Dentro Il peso Di se stessa La temperatura La temperatura Del nucleo Aumenta A causa Degli urti Delle particelle Della velocità Aumentata Dalla pressione E magari Gli atomi Gli atomi Nella tavola Periodica Sono 118 Perché Si fermano Soltanto Qui Perché La reazione nucleare E il ferro Con se stesso Assorbe Energia Invece Di rilasciarla Quindi In realtà Non avviene Non ci sono stelle Che possono bruciare Il ferro Quindi Di sicuro Le stelle Devono Morire Entra un tot Ma noi abbiamo Sempre ipotizzato Che le stelle Siano Molto 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 Grandi Così almeno Riescono a Comprimersi bene E se la stella Non è così grande Che fine fa? Beh ci sono Diversi tipi Di Morti La prima Per esempio Quello che accadrà Al nostro sole Il sole Quando si metterà Le reazioni nucleari Espangerà La propria Fotosfera La propria Corona Di tanto Si gonfierà Ma il nucleo Rimane lì Non è che Sta bruciando E ha fuso i nucleari È soltanto La parte esterna Dei gas Che si allontana Si allontana Un orbita Che diventerà Enorme Mangerà Prima mercurio Poi vinere La terra E poi Niente Verrà dilavata Nel vuoto Creando una nebulosa Lasciando al centro Il nucleo Il nucleo Bello caldo Di milioni di gradi Questo tipo di nucleo Verrà chiamato Stella Nana Bianca Rossa Bruna Ci sono alcune differenze Ma Una stella Nana Una stella che in realtà Non è una stella Perché non brucia Però È caldissima Adesso Dovremmo fare un discorso Sulla colorazione Delle Delle stelle Ma la faremo più tardi Un altro tipo di morte È Per stelle Che Collassano Sulle stesse Ma sono stelle Stupidamente Massive E Mostruosamente Grandi Quando collassano Non riescono a bruciare il ferro Perché Non può Ma Schiacciano talmente forti I protoni Nel nucleo L'uno contro l'altro Che Questi cominciano a Repellersi Perché abbiamo visto La repulsione Colombiana Più da vicini Più intensa è E non c'è un limite E quindi Può succedere Una cosa Molto strana Pur di non stare Vicini Questi protoni Reagiscono Con gli elettroni Quindi Carica più uno Carica Meno uno Si mettono insieme E creano un neutrone Carica zero Adesso Il processo non è così semplice Perché Ovviamente La carica elettrica Deve essere conservata Ma non è l'unica cosa Che deve essere conservata Cioè Anche la carica Leptonica Quindi si deve Padurre Un neutrino elettronico Però Capite che Si annullano Tutte le cariche Diverse da zero Rimano una stella Di neutroni Ma i neutroni Non hanno problema A schiacciarsi A stare vicini Non c'è L'epulsione No? I carichi elettriche Quindi questa stella Si contrae Si contrae Diventa una cosa Con densità Altissime Elevatissime Parliamo di Dieci alla Trentuno Kilogrammi Per centimetro Cubo Cioè Migliaia Di miliardi Di miliardi Di miliardi Di chili Per un centimetro Cubo C'è uno Cubo Di spiccolo Un centimetro E voi direte Wow Nessuno Potrà mai Forgiare un'arma Da questa stella Come si vede In Thor Ma Esistono cose Più devastanti Sì Se la massa È talmente Grande Che Quando questa stella Si Comprime Supera Una certa Densità Limite Allora La stella Viene chiamata Buco nero Il buco nero Ve la faccio vedere In un altro modo Dobbiamo citare Sempre Einstein Per queste cose qua Einstein disse Che La teoria Della relatività Sia speciale Che destretta Nulla Può muoversi Più velocemente Della luce Ora Noi sappiamo Che I razzi Abbandonano La Terra Con una certa Velocità Ma Perché hanno Un propellente E un motore Sempre accese Continuamente Ma immaginiamo Di aver dare un calcio A questo razzo Che velocità Deve avere All'inizio Per andare in orbita Ecco È molto facile Calcolarlo Perché Basta la fisica Classica Questo Calcolo Viene chiamato Velocità di fuga Di un oggetto E dipende E dipende Soltanto Da Due cose Dalla massa Del Pianeta E dal suo raggio Non dipende Dalla massa Dall'oggetto Per esempio Sulla Terra È 11 km al secondo Sulla Luna Penso sia 6 Sul sole È tantissimo Ok Ma facendo un collegamento Con Einstein Possiamo chiederci Ma esiste Una stella Che facciamo finta Che sia un pianeta Che abbia una velocità Di fuga Talmente alta A livello teorico Che superi La velocità Della luce Sì Questo è Esattamente Quello che viene Definito come Il buco nero Ovviamente Dato che Nulla Può Superare La velocità Della luce Nel ruoto Che vale 3 per 10 all'8 Metri al secondo Cioè 300.000 km Al secondo Deve succedere Qualcosa Su quel limite E la cosa bella Della formula Della velocità Di fuga È Che se tu lasci La massa Dov'è Ma La inverti In modo da ottenere Il raggio Quell'oggetto Lì viene chiamato Il raggio Di Svarsild Cioè È il raggio Entro il quale Questa sfera È costata Il buco nero E dato che Nulla Può superare La velocità Della luce Se un oggetto Si trova dentro Non può uscire Perché per Stare Lì Per uscire Dovrebbe superarla Ma Einstein dice che Non si può Ed effettivamente Non si può Abbiamo Ovviamente Fotografato Dei buchi neri Ma come C'è della luce Che fugge Dai buchi neri Questo è Fintissimo 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 Fintissimo Questo è vero Questa è la foto Vera Queste sono Immagini fatte al computer Un po' così Non abbiamo Fotografato Il buco nero Perché è nero Abbiamo fotografato Le stelle Che si sta mangiando Dato che Ha una massa Grande Con una bella gravità Lui riesce A distruggere Le stelle Sì ok Forse queste immagini qua Sono un pochettino Più chiare Vedete cosa fa Lui si Risucchia La materia E quindi noi Facciamo le foto Alla materia Che viene Accelerata Verso il buco nero E quando la materia Viene accelerata Pelle regge di Maxwell Deve mettere Di azione O nell'infrarosso O nell'agge X Ma Possiamo fare una foto Di cui dopo Parleremo Come si fanno Detto questo La prima parte Introduzione La concludo così